DDL antiparentopoli e legge elettorale. Dopo aver presenziato i lavori della seconda commissione bilancio dell'ARS, il presidente Crocetta ha assistito ai lavori della commissione affari istituzionali. L'intervento del presidente si è reso necessario per tentare di sistemare alcuni aspetti della legge antiparentopoli che non sembra trovare accordo neanche nella maggioranza. Sulle incompatibilità è molto chiaro, ci sono alcuni problemi legati a alcune richieste dei parlamentari. Noi pensiamo di aver fatto una proposta di mediazione nel senso che può risolvere lo stesso i problemi assicurando quelle garanzie democratiche necessarie che vengono richieste dai parlamentari. Perché noi non è che vogliamo fare delle norme forcaiole, vogliamo impedire che attraverso la posizione di parlamentare o di assessore regionale o anche di presidente si possa abusare per favorire le proprie imprese o le imprese dei parenti.